Buonasera amici sportivi appassionati di atletica, siamo qui noi di A Tempo di Atletica, come sempre collocati a cuscinetto tra i due TG, quello delle 19.30 e quello delle 20.30. E' la dodicesima puntata stagionale e anche l'ultima del 2023, perché ovvio ci ritroveremo poi col nuovo anno 2024. Per lo spazio dedicato all'Atletica Virtus.du che è venuto a trovarci questa sera un ragazzone, perché ha 16 anni, ma ha la Joseph Manfredi. Ho detto bene Joseph? Sì. Joseph Manfredi, quando sei arrivato ti guardavo veramente, io non sono un gigante, ma così dal basso, quanto sei alto? Un metro e novanta tre. Ma cresce ancora, no? Sì, ora smetterò. Ci stiamo fermando. Ora ci fermiamo. Ma per quello che fa Joseph, ovvero il salto in alto, va bene, ora mi viene tale due e venti, perché allora ti trasferiamo al basket. Però va bene, senti Joseph, allora intanto ti chiedo, perché Joseph? Questo non lo so, dovremmo chiedere ai miei genitori. È scritto con la PH? J-O-S-E-P-H, sì. Ah, ho capito, ho capito. Joseph Manfredi, sei di Lucca? Sì, Lucca. Senti, alla Virtus da quanto? Alla Virtus da tantissimo. Da sempre? Da sempre praticamente, terza elementare penso. Quindi parliamo di sette, otto anni fa? Sì. E mi dicevi anche che è riuscito a venuto, io non ti ho riconosciuto, però perché eri più piccolo. Ero più piccolo, si parla da tanto tempo fa. Quanto eri alto all'epoca, te lo ricordi? Eh, poco, meno di ora. Senti, hai fatto un po' di tutto, come capita a voi, a tutti quei ragazzi che la Virtus avvia, no? Fida i corsi comunali all'atletica. Inizialmente si fa di tutto. È successo anche a te? Sì, sì, è successo anche a me. Ho fatto prima mezzo fondo, poi siccome era abbastanza alto, ho fatto gli ostacoli e poi ho provato a fare salti in alto e lì mi sono innamorato. Mi è piaciuto tantissimo. Io senti, non mi ricordavo quando sei venuto che eri più piccolo, sia d'età che di statura, però quando sei arrivato qui stasera, tu hai il fisico proprio del saltatore in alto, permettimi di dirtelo. Cioè, hai proprio le physique du rôle, no? Come direbbero francesi. Sì. Studi le lingue qualcosa, hai studiato? Eh, sì, ho studiato francesi e inglesi. In inglese. Vabbè, oggi se uno poi un giorno, te l'auguro, tu dovessi diventare un atleta importante, devi parlare l'inglese. Mi dispiace perché ora non parlo neanche dell'italiano, pensate, parlo del francese che considero dopo l'italiano una lingua assolutamente meravigliosa. Ma questo è un altro discorso. Senti, il 2023 di Giuseppe Manfredi mi dicono che è andato discretamente, adesso dovremmo vedere tra l'altro anche un pa' di foto che ti immortalano anche con qualcosa che luccica. È andato molto bene, sì, è iniziato abbastanza male perché la stagione indoor ho dovuto saltarla perché avevo un infortunio, un piccolo infortunio alla schiena. E poi non è, la stagione estiva non è andata benissimo, però c'è stata una gara che mi ha svoltato. Era quella dove abbiamo visto la foto? Sì, dovrebbe essere, no, non era quella. Te prima hai fatto, hai fatto il tuo personale quest'anno, perché fino a prova contraria siamo sempre nel 2023, 1,90, giusto? Sì, 1,90. E dove l'hai fatto questo? A Siena. A Siena, era una gara, cos'era, un meeting, cos'era? Era campionato toscano. Ah, quindi questo ragazzo è Joseph, campione toscano allievi 2023, però dopo che è successo? C'era la finale dei campionati di società allievi Argento, eravate a Roma, no? Sì, a Roma. E lì che è successo? Eh, lì è stata una bella gara e sono riuscito a vincere anche quella, 1,87. Forse quell'oro che vediamo è relativo a... Eh, sì, sì. Eh, vabbè, poi ti abbiamo visto anche con i tuoi compagni di squadra. Come allievi, non ricordo, come squadra allievi, come vi siete comportati a Roma, al di là della tua vittoria? Eravamo qualificati come penultimi, quindi... Non era facile. Per niente. Eh, perché è chiaro che se uno arriva poi con quei risultati, non è che... L'atletica è uno sport estremamente anche, voglio dire, prevedibile, che cioè, ci può essere la controprestazione o la grande prestazione a sorpresa, però è logico, facciamo un esempio, se uno è nell'alto a 2,30, a 2,20, non può pretendere di andare a vincere le Olimpiadi. A proposito delle Olimpiadi di Mondiali, tu che sei un saltatore in alto, immagino seguirai, no, le gare? Se ti dico Tamberi o Barshim, beh, da italiano mi dici Tamberi. Tamberi, sì. Ma solo perché è italiano o anche perché... No, no, per tutto quello che ha fatto io dico Tamberi tutta la vita. Ma la barba da una parte sì e dall'altra no? Quando avrai la barba, non so se ce l'ha ancora la barba. Ce l'ho poco, quando mi riesce. Ma io non ne vedo, farai anche te così. Sì, sì, potrei provare, sarei curioso. Ecco, io credo che veramente per voi giovani saltatori, Gimbo Tamberi sia un esempio soprattutto per il suo straordinario agonismo. Perché lui è uno che, secondo me, se fa 10 meeting contro Barshim ne perde 9. Però è mondiale, alle Olimpiadi spesso lo frega. È così? Sì, è così, è un animale da gara. Tu sei agonista o no? Agonista, 100%. Quindi quando c'è la gara... Sì, io do tutto. Senti, dobbiamo parlare anche di chi ti allena, che purtroppo stasera non è qui con noi, no? Eh no, è malata, poverina. Il re è della Vartola. Eh, quindi la salutiamo. La salutiamo, sì, sì. Ci sta seguendo. Ma com'è come allenatrice? Brava, sì? Sì, sì, è brava. Severa quando deve essere severa, brava quando deve esserlo. A proposito di essere severi, che hai 16 anni, sei del 2007, 16 anni già compiuti a questo punto immagino. Sì, sì. E vai a scuola, sì? Sì, sì. Cosa fai? IT tecnico. IT tecnico. Quindi la prospettiva, ne hai già idea, sei in seconda o in terza? Terza. Terza. C'è ancora due anni, quindi, poi. Sì, sì. Prospettiva di studiare ancora, di fare cose. Vedrò lì per lì. Per ora penso studiare ancora. Poi, te dici, io vorrei, insomma, provare a fare qualcosa di buono anche nell'atletica, no? Sì, sì. Eh, nel salto in alto. Sì, quello mi piacerebbe molto. Perché nel salto in alto, vabbè, al di là del settore femminile, dove abbiamo la nostra idea Pieroni, che è stata qui proprio poche settimane fa, in campo maschile la Virtus, insomma, sono anni che cerca un atleta locale che possa esprimersi a certi livelli, giusto? Eh, sì, so che è un po' di tempo che lo cerca, speriamo che l'abbiano trovata. Eh, speriamo, sì. Senti, quante volte ti alleni la settimana? Cinque. Beh, insomma, è un bel impegno, eh. Bel impegno, sì, soprattutto con la scuola, è un po' difficile, però vado abbastanza bene, io sì. Ma io ti leggo negli occhi che riesci bene a compendiare le due cose perché mi pare che stai affrontando questo mondo dell'atletica e il mondo della Virtus con grande passione perché alla fine, l'abbiamo visto nella foto di prima con tutti i ragazzi, si cementano amicizie a scuola e si cementano amicizie anche nell'atletica, no? Sì, l'atletica secondo me è un mondo bellissimo, fai dei legami con le persone che ti alleni, incredibile. Mi stai dicendo più che a scuola? Sì, sto dicendo anche più che a scuola. Non c'è nulla di particolare, sta parlando con grande sincerità ed è quello che avevo già intuito parlandoci, quindi dobbiamo ricordare anche, a proposito di quelli, forse ti riconoscerai nelle prossime foto che ho etichettato Virtus, ne vediamo tre, perché sabato scorso al campo con i Moreno Martini, beh, penso l'avrei fatto anche te, no? Questo è il Natale, il cross di Natale, l'hai fatto? Sì, sì, li ho fatti, li ho fatti. L'hai fatto? Beh, ora se ti mettevi lì, sembravi un gigante rispetto a questi bimbi molto piccoli, giovanissimi delle categorie esordienti, ragazzi e ragazze, però anche cadetti e cadette che hanno gareggiato davanti alle famiglie, ecco, queste ragazze sono già un po' più grandicelle, ad esempio. Però, a proposito di cross, gli atleti della Virtus sono stati impegnati anche nel cross città di Fucecchio e devo dire che hanno fatto delle cose molto interessanti, nei 5 chilometri categoria promesse, vittoria di Filippo Sodini, secondo posto di Paolo Marsili e terzo di Thomas Tei, che abbiamo avuto poi anche loro qui in passato, nostri ospiti, tutti e tre. E tra le donne, nel cross 4 chilometri, bella affermazione di Carolina Fraquelli, che si è giudicata loro juniores, precedendo di due posizioni la compagna di squadra Emma Puccetti, terza. L'ultima medaglia è arrivata nel cross 2 chilometri e mezzo cadetti con la vittoria di Giulio Guccione. Beh, quindi mi sembra anche nel cross, no, che tu facevi prima, eh? Le cose stanno andando, stanno andando bene. 2024, Joseph, allora. Eh, 2024 l'obiettivo è molto grande, l'obiettivo è 2 metri. Adesso tu sei 1,90 abbiamo detto. Sì, sei 1,90, l'obiettivo è 2 metri e mi potrebbe far ambire al campione italiano. Cioè, ma passi di categoria o sei sempre allievo? Sempre allievo. Quindi sei allievo però di secondo anno, quindi ora hai un anno di... Cioè, arrivare sui 2 metri vorrebbe dire andare a campionati italiani e essere protagonista, diciamo così. Sì. Eh? Hai fatto già dei salti in allenamento che... Non dico che ci sei già, ma insomma, ad esempio, più del 1,90, perché c'è chi sa... Tu in allenamento salti più che in gara o...? Io salto più in gara, sono come Tamberi un animale da gara. Sei un agonista, vabbè, l'abbiamo visto, l'abbiamo visto. Allora, io voglio far vedere anche la foto di Martina Ricci, che non è un'atleta della Virtus Luca, però è un'atleta che martedì scorso era lì, dove sei seduto te. Anche lei è una, se non ricordo male, è un'allieva e, sì, è del 2007 anche lei, quindi è una tua coetanea. Lei fa il lancio del martello, è seguita da una grande campionessa, quale è stata Claudia Kosdovic, che faceva il Javel Lottos, è dell'atletica Pietrasanta ed è stata convocata dal 3 al 6 gennaio, quindi subito dopo Capodanno, a Tirrenia, dove c'è uno dei centri tecnici federali, per questo stage azzurro in vista degli impegni del 2024. Quindi io, Joseph, mi auguro veramente, come è successo altre volte, non sempre, se no qui avremmo la coda di atleti, però è successo diverse volte che chi è venuto qui poi ha avuto quel pizzico di fortuna, ma più che la fortuna a venire qui, la bravura. Tanto impegno a scuola, tanto impegno nell'atletica, mi immagino. Sì, tantissimo. Quindi ce la metterai tutta, sono convinto. Ce la metterò tutta. E salutiamo la tua allenatrice da casa, ci dispiace che non è stata qui, però davvero, Joseph, in bocca al lupo per tutto, buon Natale, buon fine anno, buon 2024, e vabbè, a casa cosa dico, sono contenti che fai atletica, sì? A casa sì, sono molto contenti, e soprattutto i miei risultati, quello sì. Vabbè, se poi vengono risultati, l'importante, lo dico sempre, tanto ora a casa non sono qui, genitori, nel calcio, state al vostro posto, non siate invadenti, lasciate fare i ragazzi, lasciate fare i loro tecnici. C'hanno i tecnici che li seguono, perché poi sai, ci sono i genitori, certe volte non sarà sicuramente il tuo caso, che sono un pochino troppo, e allora dopo rischiano di rovinare il ragazzo. Joseph, è stato un piacere, è stato un piacere in questo poco tempo, grazie di essere stato con noi. Noi ci fermiamo, pausa pubblicitaria, torniamo con gli amici del gruppo podistico Parco Alpi Apuane, e parleremo della crono scalata all'antro del Cordia. A tra poco. Eccoci tornati per la seconda parte di A Tempo di Atletica, come dicevo in precedenza, è l'ultima puntata del 2023, sono con noi gli amici del gruppo podistico Parco Alpi Apuane, il presidente Graziano Poli, buonasera Graziano. Buonasera a tutti. E poi sempre con piacere vado a salutare, rimembranze di tanti anni fa, l'amico Giuseppe Rossi, direttamente, date il rinca. No, ci sbagliamo, perché c'era lui un altro amico di Levigliani, diceva, date il rinca e il Maggi, ce lo ricordiamo. Parliamo di, naturalmente, in particolare questa sera Graziano, della scalata all'antro del Cordia, crono scalata, perché questa formula particolare, ma mi dici una cosa, fu lanciata nel periodo del Covid, fosti quasi costretto, è stata un'idea che ti venne di fare qualcosa di diverso dalle solite formule. Ma, in mezzo a tante cose che, insomma, proponiamo, devo dirti che quella fu un'idea, sì, al periodo del Covid. Il periodo del Covid, nel periodo che eravamo alla fine del 2020, perché era in quel periodo, si pensò a fare questa manifestazione con la formula, come ben sai, virtuale, nel senso che uno poteva correre in un lasso di tempo. Poi non partì, non partì e nel 2021 invece siamo partiti, non in maniera virtuale, ma in maniera proprio concreta, sul campo gara. Ma è dura, mi sembra, di capire. Ora non so, forse, poi vedremo anche proprio i migliori atleti, però effettivamente, ricordiamo, questo percorso 3 km è molto importante. Ma è veramente molto duro. Si parte dalle Vigliani, no? Si parte dalle Vigliani, dalla località Lambora, c'è una pendenza di 300, di 400 metri in 3 km, quindi ti lascio immaginare la pendenza. Più del 10%. Esatto, soprattutto perché in questi 3 km non c'è, rispetto magari anche a altre salite, mi viene in mente San Pellegrino in Alpe o quant'altro, un periodo, magari un punto dove spiana, lì no. Lì nei 3 km sale sempre nella solita maniera. Ebbè, molto impegnativo. E poi, Giuseppe, voi fate parte, diciamo, dell'organizzazione come OS Le Vigliani, se non sbaglio, no? No, io come parco. Come parco, come parco. Ma è coinvolto anche il paese di Le Vigliani, se non sbaglio? Certo, è coinvolto tutto il paese di Le Vigliani. L'Unione Sportiva, la società Park, l'antro del Corchia. E poi, in generale, tutto il paese è coinvolto. Senti, le condizioni non erano ideali. Abbiamo visto da un'immagine il vento che soffiava abbastanza impetuoso, no? Le condizioni erano molto ventose. Infatti, Massimo May, alla fine, mi ha detto, dice, guarda, una vent'altra mi ha sbattuto contro... Beh, ora, ora, forse... E io ti dico quello che... Il forte Massimo May, come lo chiama Graziano. Forse, guarda, me non è neanche un fuscello. Ti dico quello che ha detto Massimo May. Ora che lo abbia sbattuto. Ti dico quello che ha detto Massimo May. No, 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 ma ci credo, ci credo. E la parte più dura è quella che vedi adesso. Però lì, perlomeno, erano riparati dal vento. Sì, erano riparati, ma c'è l'oiarino in terra. Hai. E quindi... Hai meno grifo? Vai avanti e vettore indietro. Poi lì sei in fondo, quindi lì hai già fatto quanto? Due chilometri e mezzo? No, lì sono due 890. Sono gli ultimi 100-110 metri. Beh, diceva Giuseppe Di May, diciamo anche che, insomma, il nostro amico Stefano Pascherini, che venne a trovarci qualche tempo fa, io l'avevo ribattezzato il signore dell'antro del Corchia e tale è rimasto, addirittura con il record. Ma sì, Stefano Pascherini si è ripetuto con il record, ha fatto un secondo meglio e soprattutto importante per Stefano perché era contento anche perché, adreticamente, è un pochino più indietro rispetto allo scorso anno, invece, insomma, si è confermato al solito tempo, si può dire. Massimo May per noi è stata un po' una sorpresa perché io l'identifico oltre al forte anche per noi, per le apuane, poi Giuseppe Rossigero conferma, è un po' un emblema, è una statua perché ha sempre partecipato al trofeo Barca Puane, a San Pellegrino, poi è un grande atleta. Terzo posto Nicola Vanni, un gran bel terzo posto anche per questo ragazzo Garfagnino Doc e Mirko Pierotti che anche lui si è comportato bene, che è un po' il nostro nuovo emergente, insomma è finito quarto e devo dire che anche a livello tecnico è stata una bella gara. Beh, 142 arrivati. Io ho scritto 140. Sì, 142 arrivati, è un gran bel numero. Soprattutto siamo contenti anche al femminile, ecco la curiosità che per un secondo Nina Agulino ha vinto la gara, anche lei molto forte, ha preceduto la nostra Salas Bernarditta e poi il terzo posto Marta Micchi che anche lei è un po' un uomo, una donna emergente del panorama podistico femminile che è di Castelnuovo, quindi fa veramente piacere. Ecco, un campo femminile, Graziano, Giuseppe è venuto a mancare però quella che era considerata da tutti un po' la grande favorita, no? La Elena. Eh, l'era Bertolotti, no? E purtroppo io l'ho chiamata e era al lavoro, non poteva venire via e quindi è mancata. No, perché parliamo, cioè non parliamo di professionisti, no? Qui parliamo di gente che insomma, nella maggior parte dei casi, lavora anche, no? Lavora anche. E quindi... Lei penso sia stata la prima di esserti spiaciuta, no? Eh certo, e a parte che dopo il giorno dopo a Corso mi sembra... Sì, a Corso è una gara a Fugecchio, ma sai, l'impegno di lavoro anche per queste ragazze sono diversi, quindi conciliare un po' tutto a volte... Però sono, questa Nina Gulino l'ha rimpiazzata bene, come le altre... Sì, sono il compagno di squadra. ...hanno tenuto alto il livello della manifestazione. Ti volevo chiedere, Graziano, qualcosa anche, perché scherzando, prima dicevamo che c'è un Bedini anche qui a Noi TV, di Niccolò Bedini. Ho visto che insomma tu sei stato a Bruxelles, lo avete giustamente evidenziato, il risultato di questo ragazzo veneto della provincia di Treviso, noi siamo un po' esagerati, no? Anche Giuseppe, perché parliamo, noi vorremmo i nostri atleti che vincessero anche a livello europeo, mondiale, a livello di sistema solare, non lo so, però dai è stato bravo alla fine. Ma sì, sicuramente è stato bravo, poi come tutti hanno visto anche in TV, però quello è per tutti, logicamente, le condizioni del fondo non erano certamente ideali. Niccolò si è ripetuto perché è stata una bella stagione quest'anno, ha iniziato come nella corsa in progressione, ha fatto il campionato europeo dei 10.000 metri, ha fatto 29.33 e per la qualificazione ha fatto un dodicesimo posto nel campionato europeo su pista, ora ha fatto un 26esimo posto nel campionato europeo della corsa campestre e ora, diciamo così, sta preparando una grande annata perché il 2024 per lui, secondo me, è l'ultimo anno promessa e potrebbe essere l'anno della consagrazione perché insomma... Un anno in più a quest'età può contare, maggiore esperienza. Giuseppe, le premiazioni le avete allestite come location? Io c'era anche una foto che Graziano mi ha mandato, però lui lo sa, a me mi piace vedere la coni... però è una foto molto bella che siete tutti sotto quest'albero di Natale, no? Sotto l'albero di Natale è la presentazione che è stata fatta, poi le premiazioni sono state fatte davanti a quest'albero di Natale dove è stato allestito, si è visto tutto che si vede tutta l'illuminazione particolare che dava una sensazione, fra gli organizzatori e si vede adesso il presidente della cooperativa di Levigliani, la cooperativa che lavora sul Colchia, stazione di marmo. Ma l'hai visto, ti chiedo questo poi con Graziano, voglio parlare di sabato 27 gennaio, ma l'hai visto quel docufilm che stanno facendo, eccezionale, poi io vengo da una famiglia di cavatori, quindi... quel docufilm eccezionale che stanno facendo sui canali Sky, sul 406, mi sembra, è già la seconda serie, gli uomini di pietra. Sì, li ho visti. L'hai visto? Sì, li ho visti. Sono quei cavatori lì? No, sono cavatori della ditta dove lavoravo io, della ditta in Roo. Ma tu hai lavorato nelle cave? No, io ho lavorato nella ditta in Roo, però lavoravo in officina in quel città. Quindi li conosci? Sì, sì, sì. Sono fatti benissimo e proprio... fanno vedere come oggi si lavora una cava di mano, che è cambiato rispetto, eh? Sono sulle cervagliole, le cervagliole è quello che si esce a Galleria del Cibollario. Quando l'ho detto a mio papà di guardare quello, credo gli ho fatto un regalo, lui che è stato per tanti anni cavatore incredibile, il lavoro della cava ha anche cambiato molto. Dico 27 gennaio 2024, un uccellino mi ha detto, 5 mila metri su pista allo stadio comunale Nardini di Castelnuova Garfaina. Quindi, Graziano Poli così, intanto ne mette in pista un'altra. Sì, questa diciamo che è un po' la conclusione dell'anno, perché premeremo l'highlander delle Alpi Apuane, quelle quattro manifestazioni, fra cui appunto c'è l'altro del Corchia. E poi organizziamo queste 5 mila dal secondo anno, anche lo scorso anno l'abbiamo fatto, per essere un po' la festa un po' sociale del nostro gruppo, cercheremo di, l'anno scorso ci fu Guedini, ci fu anche Francesco Guerra che però non corse, si allenò, e cercheremo di fare, come possiamo, un buon lavoro di cercare di portare al via buoni atleti, soprattutto cercheremo di presentare anche quelli che saranno i nomi nuovi del 2024. Puoi anticipare nulla, hai preso un keniano nuovo mi dicono. Sì, abbiamo preso un keniano nuovo, perché gli uccellini gabbiani volano, quindi le cose poi le so, dai. Abbiamo preso anche… No, ma è un keniano nuovo, è anche forte. È molto forte, sì. Ben a bambua. Vedi come è gongola, lo vedi? Poi abbiamo preso un campione italiano di maratona, e… Eh, dici anche il nome. Recente, René Kunaz, che ha vinto San Pellegrino Alpe. Già vincitore a San Pellegrino Alpe. Poi abbiamo preso due ragazzini, ma quello magari lo faremo più avanti, con sempre cattere le promesse che corrono forte. Poi abbiamo ringiovanito la rosa anche per le categorie, ma la stella. Insomma, bisogna sempre… Questo signore, dobbiamo chiudere, una battuta di Giuseppe, questo signore si prepara ad un grande 2024. Io spero che il keniano che ha preso sia a livello di chi vuole. Addirittura. Spero. Non lo so, non lo so. Vabbè, comunque, dobbiamo chiudere qui, perché essendo tra i due telegiornali, se sforiamo, poi dopo a voi non vi fanno nulla. Giuseppe, è stato sempre un piacere rivederti. Grazie. Graziano. Poi ci ritroviamo con il nuovo anno. Noi con A Tempo di Atletica torniamo martedì 9 gennaio, pensate, 2024. Ricomincerà il giro, la Virtus, l'Orecchiella, il Pietrasanta, le Alpi Apuane e così via. Grazie di nuovo. Buona testa. Buona testa a tutti. Ringraziamo Marco Cervelli. Tra poco il Tg delle 20 e 30. Grazie a tutti.